Quando nasce e perché nasce questa data di ricorrenza per la sicurezza delle scuole? Questa data nasce nel 2015 con la legge 107 di luglio del 2015, la cosiddetta legge Buona Scuola per ricordare il crollo della scuola dove morirono tantissimi ragazzi. È una data che viene ricordata il 22 di novembre e ogni anno noi come coordinamento insieme ad altre associazioni cerchiamo di tenerla sempre viva. Chiaramente non riguarda la sicurezza soltanto dal punto di vista strutturale ma anche dal punto di vista ambientale, decoambiente e quindi una situazione di vivibilità al di là delle mura della struttura stessa. Sì esatto anche perché dobbiamo capire che la scuola, proprio la struttura deve essere una scuola che dia sicurezza, dia benessere sia alle studentesse che agli studenti e anche al personale che lavora all'interno. Anche perché ricordiamoci che in Sardegna sono circa 1700 le strutture scolastiche, i plessi scolastici. C'è un monitoraggio regionale sulla situazione chiaramente dei plessi scolastici dal punto di vista strutturale, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della sicurezza per cui c'è anche un piano di intervento in merito? Non esiste un piano, un monitoraggio o diciamo un censimento di tutti gli istituti. Ecco quello che noi chiediamo come coordinamento presente di Consiglio di Istituto è un monitoraggio completo, capillare, un censimento di tutti gli edifici scolastici. E' un monitoraggio completo, capillare, un censimento di tutti gli edifici scolastici.